La civiltà contadina in mostra all'ospedale San Donato di Arezzo. È stata infatti inaugurata questa mattina la suggestiva esposizione fotografica La Civiltà Contadina nell'Aretino, un'iniziativa di Calcit e Asla Toscana Sud-Est. La mostra è realizzata dal baro Valdarnini, che ha esposto scatti realizzati durante le tradizionali manifestazioni a Aretine, da Ruscello alla Fratticciola da Montagnano a Ponte Buriano. Questa mostra l'ho messa insieme in un arco di dieci anni, cercando di carpire delle situazioni, dei momenti durante le rivocazioni storiche che sono state fatte qui nella provincia di Arezzo, nell'arco di dieci anni. Tutto il materiale raccolto potrebbe servire anche per realizzare un bellissimo libro sulla civiltà contadina? Questo è un po' il sogno del mio cassetto e se trovo qualche sponsor che mi può aiutare a realizzare questo libro, per me sarebbe una grande soddisfazione. La mostra nella olla dell'ospedale Arettino resterà aperta sino al 31 gennaio 2020.